Eccoci qua ancora una volta, siamo sempre noi, qua con me stavolta c'è il Diego Rosetta Fini, buonasera, lo stadio è lo San Siro di Milano Cerca di distruggi, siamo qui a termine Eccoci qua, eccoci da, siamo pronti per ripartire Venta noi Ma si vede bene anche qua, comunque il Diego è, madonna che sensibilità uscita Sai? Un momento che ha pronti dentro qui E' buono Adesso c'è un 5 minuti, guardate se non è Mi sa che era un po' troppo 5 minuti Ah si? Ragazzi spiegate che siamo, cerca di distruggi Già detto? Non è che sono morto lì Cerca di distruggi, 12 round da 5 minuti, 45 secondi di bomba, 5 in piazzamento 5 in piazzamento, 7 in mezzo a Disney Subito una zero Il Diego lo dobbiamo fare, dobbiamo fare il primo gol Una zero veloce veloce Dobbiamo passare ancora un po' per capire Certo? Ah si, ogni 3 round si tratta dell'altro Non te lo vede Non te lo vede Cioè c'è fuoco amico? Si A forza Io poi E non c'è il visuale di rispare Sì, sì Sì, sì Merda Si tocca a farlo da solo Chi è che è rimasto? Chi è che c'è tra l'altro? Diego o Luca? Eh 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 Non lo so Eh Hai ucciso Dio Scusa No, no, Luca inizia Scherzavo perché è successo una diversa Mi sembrava bua tang Con che classe il Diego Scusa Scusa Va a decidere Con quel tocco sotto Un cucchiaio Un cucchiaio C'è che me tira No, guarda Pressione massonente Starmaccio Stiamo Un po' di Dio porco Ma Dio porco Buonissimo Scusate Per gli aggettivi Dispregettivi Che aggiungiamo Al termine Dio Però Ci scappano Non lo facciamo Volontariamente Non lo facciamo No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Oscar No 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 Con vitamina C Vitamina B Uno dentro l'aereo come fa? Uno dentro l'aereo come fa? Mi sa che c'era la biblioteca Ma io vorrei fare il giro Vieni stupido che ci creda Non so dove l'altro Sembra un video che vai in biblioteca Io ti dico dove sono Ok uno no, uno dietro Uno è nascosto tra il terminal e la biblioteca Se vai nel corridoio Il fondo del corridoio lo rossa a parte Non prendere mai l'altro Ma tu vai a piazzarla Come potete parlare? Si si Poi c'è Menin Che adesso non si vede più Scompari Ma chi è che è morto? Scompari 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 Che camp Quattro a uno qua Il Real Madrid che prende il largo Doppita di Cristiano Ronaldo E la cava di casa Manuel che prova un Uno due veloce Un uno due che però si nasconde E alla fine colpisce la preda Sembrava di vedere in azione Una iena del Madagascar Un'altra cosa Un'altra cosa Un'altra cosa do porto Boro Boro Burro Di quanto vuole Boro Di quanto vuole ecco lì sto disescando venite lì dentro ecco lì ho perso un attimo ho detto che arriva che arriva l'attimo fuggente fino a 1 io che dai distrutti no perciò perciò vengono rilassati dove cazzo spari come fai? guarda la tua biblioteca è un bel tu dovresti un biblioteca? ok grande, non stai buttando le donazioni ma non le vuoi dire ma fai a SESA lì dio caro? io sapevo che lì l'altro predetto non so io sono il mio 4 allora è proprio il mio io sono il mio 4 adesso non lo faccio adesso non lo faccio con Facebook e non lo faccio non lo faccio con la bomba non lo faccio con la bomba nessuno ha preso la bomba non lo faccio con la bomba sei partito tutti ma magari è che siamo in 3,4 poi non si ricordai che ci siamo 2 mi假 mo vedo nessuno in centro tacco la gariglia tacco la gariglia quando si arriva? 12 bravo è solo stress e i jambi i jambi forse sarà un po' di pino non mi basta è già stata mia vita ragazzo merda ma non è impossibile che sia già lì la la bomba non ce n'è più guardate che la veritina guardate che la veritina si è morto addio galato non mi ero morto 7 a 2 finalmente devi mettere sul mio scato adesso l'hai vista proprio io adesso quando stavo portando ma se era nascosto non è che cagato sono dentro l'aereo non hai fatto mai dentro l'aereo no sull'altra casa attaccare il cane e sulle situazioni un po' di bianca sfruttare il mamma non sta usando un po' di bianca eh mi racconti un po' di bianca non community che pregna no non por che stavo poi si spagna chiosti si spagna il joystick E' un'altra cosa? Non ci sono? Non? 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 Non ci sono. Non ci sono. Non ti 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 sono. Che basta! Alla prossima resistenza! Non ti sono. Non ti sono. Dai, dai! Merda! Non ti sono. non c'è stanzi, c'è stanzi guarda dove è tutto il video non c'è non c'è che cazzo è invisibile no no si si è capito ma lui era ma è mamma mia mamma mia mamma mia si qua insomma siamo un po' silenziosi perchè siamo dell'urna abbiamo visto un verona un verona attivo partiti bene su uno a uno due a uno ma poi poi è il real ha dilagato ha dilagato numero 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 è credibile sembra un pizzico cosa non fa quando non muore abbiamo ucciso è dentro al corrido nel corrido non è che compariamo allora lascio di pensare un attimo no no si 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 uccisa sarebbe da mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmm sarebbe da ammultare sarebbe da ammultare bravo diego peccato 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 lecamo schio lecamo schio Sì, speriamo di giugno. Non ti senti mai segurezza? Non si può dire, o... Se non giocava prima, poi non risponde. E' un coraggio giusto? Non ti dà tanto a carica di... Dizia per un barco. Non è che bocura, non è sempre di... Non è sempre di a Ema, o... E ti 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 capo, erasci. Grazie. È altro silenzio. Ah, la tensione. Non si muoce, non si muoce. Ok, ok, ok. Ma è lì sopra. Non è lì sopra, va bene. Ok, non corri, non corri, non corri. Corri. Ecco? Non lì, non lì, non lì, non lì, eccoci. Ok. Vai, vai, ti muovi, ti muovi, ti muovi. No, scappa, scappa, scappa. No, non è deciso. Dai, 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 dai. Ma so, ma so, ma so, ma so, ma so. Merda. Dico, buona cosa qua. Stai se che mi è capitano, ho. Mi scappai, ti è? No, come gli approvvigioni a me? Dico, non devi neanche uccidere tutti uno. Che tanto è sia che gli fai perdere tempo. Sabe il tuo scopo di mare? Io ho visto Daniel che mi è passata lì. No, io pensavo che l'avessi visto. Stava avendo la buona. Sì, sì, sì. Io pensavo che l'avessi visto fare un giro, ragazzi. Sarà un modificio. Eh? Non mi faccio fare un giro, ma poi lo faccio. No, no, no. Stai a fare un giro. Eh, o passano per l'aereo, oppure passano subiettamente su altri. Beh, che via di me, da obitazione. Due, su uno. Oh, uno. Che via di me, da obitazione. via di me. Oppure passano. No. Allora, non! I l'ottimità. Diopare! 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 Locata! Oh! Oh! Sì, per buona ripsa, come se si trovava in avanti? Non mi si arrasa dire Andrea di la verità Si ha messo dentro la piantina Lì ha fumato la marijuana Lui si è girato subito in avanti Si è girato subito in avanti Si è controllato, bene Non si è girato la birra Bestemmia Bestemmia in 12 lingue Se crepo io, usalo No Se crepi tu, usalo lo stesso Se lo crepo a nessuna faccia Stessa roba Stessa roba Stai avanzando un po' di roma Oh, veramente, lo guardano dire che... Non morire, cazzo Non morire, cazzo Stai avanzando un po' di roma Stai avanzando un po' di roma Che altro era venito La loro spawn al centro lì Al centro lì Sì, cosa ha fatto? Ma... Benini Dai va, dai Va Ok, fermo, fermo Non posso avanzare Stai modato, modato tutto Stai andando comunque verso... l'uomo l'esercizio la macchina quando te l'hai visto che ti ho scomisci a tirare il testo del gioco eh, è un parametro mi sono stati di più dati dietro e quasi pronti per meno più ci stanno mirando la macchina ci stanno mirando la macchina ma che cazzo sta urlando il gioco è un gioco l'esercizio 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 spiagliare non vi è visto il bel di secondo non so se lo posso dire cosa hanno usato? non ho capito ha un'idea ha un'idea si è su su B e su C4 è dietro l'aereo è dietro l'aereo su la bomba B sta uscendo qualcosa di salvataggio Benì basta mi defende veramente male panze vero Dio càààà! bordacchio Billi guardate di scaglione che non era amato più più non c'è l'impasto non c'è l'impasto non c'è l'impasto ti pensavo che lo sapessi perché è il mio solito sport Non è bene Non è bene È sempre un buon momento Non è bene Non è bene Non è bene Ma non è bene Vimlo papà Devo sparare In il dietro Devo sparare Devo sparare Dio calme Ho preso per l'uomo Niente! Non lo so che era. Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Cioè, guarda, non lo so, non lo so. Non lo so. Questa cosa si chiama... Dai, ancora due. Ancora due, ancora due. Cioè, due. Dai, dai, una cosa su una, quella due. Insomma... Anche questa. Il deserto è un palco. E se io perde, non demoralizzate. E vincere la prossima. Guardate qua. Di ottavo. Mi ingo le armi forti. Bello. Bello. Frecchia. Io non vedo. E vabbè. Grazie a tutti. Dio caro è subito. 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 E' subito.